Sono Eugenio Luigi Orio, medico, specialista in biochimica e chimica clinica, dottore di ricerca di scienze biochimiche. Il mio campo di lavoro e di ricerca è lo stress ossidativo. Da anni ormai mi interesso dei fenomeni Redox e oggi sappiamo che una delle funzioni del nostro sistema Redox è proprio modulare, controllare un fenomeno biologico adattativo che è chiamato stress ossidativo, che non è la semplice rottura di un equilibrio tra radicali liberi e antiossidanti, ma è un fenomeno molto più complesso, legato alle vie di segnale, legato ai meccanismi di adattamento e di difesa. In questo contesto mi interesserò nel prossimo corso di alta formazione, specificamente della nutraceutica, come controllare il sistema Redox. Per questo vi aspetto prossimamente alla nuova edizione che sapete iniziare del corso di alta formazione.